Il Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino accoglie, forma e orienta i giovani mediando tra la cultura umanistica e la promozione delle competenze del XXI secolo. Il Liceo Virgilio garantisce una formazione completa che consente l'accesso a tutti i corsi di laurea e di entrare nel mondo del lavoro, nei settori socio-assistenziale, della comunicazione, delle pubbliche relazioni e della promozione culturale. Iscriviti al Liceo Virgilio Marone di Avellino per dare valore al tuo futuro con una formazione di alta qualità. Vieni a conoscerci, partecipa all'Open Day il 15 dicembre 2018 e il 19 gennaio 2019, dalle 16 alle 19.